Mantenere a Sena lo stabilimento Whirlpool e ottenere garanzie per il futuro dei lavoratori. Queste le richieste da ricapitare al governo sul tavolo dell'incontro senese fra il presidente della regione toscana Enrico Rossi e i sindacati, preoccupati dalle scelte fatte dalla multinazionale riguardo al mantenimento della produzione nel sito di Napoli. Da capire a detto Rossi se il piano industriale è stato rispettato e se le risorse messe a disposizione dalla regione sono state utilizzate. Si tratta di capire se davvero esiste un'idea, una strategia per il futuro per questo sito e nel frattempo a aprile impegnare il governo a rinnovare la protezione sociale perché i lavoratori vogliono stare dentro lo stabilimento. I sindacati hanno spiegato che lo stabilimento di Siena è da tempo sottoutilizzato e che si avvicina aprile data di scadenza dei contratti di solidarietà. Abbiamo chiesto al presidente Rossi di attivarsi con la multinazionale e anche con il governo perché questa è una situazione che anche se dal punto di vista delle dichiarazioni su Siena non è stato appunto dichiarato dalla multinazionale in uno stato di crisi nella realtà la crisi c'è molto evidente e forte da diversi anni. Ad oggi purtroppo al di là di tutto quello che è stato fatto anche dalla regione perché come ci ricordava anche il presidente Enrico Rossi la regione in questi anni ha in modo sostanziale con dei soldi, con dei milioni di euro accettato di portare avanti, di sostenere dei progetti Whirlpool questo chiaramente però non ha portato ad un aumento dei volumi produttivi. Tutto ora è finalizzato a organizzare una manifestazione a livello nazionale dove dovranno essere presenti i rappresentanti e i lavoratori soprattutto di tutte le sedi italiane ancora la data non è definita ma dovrebbe essere una manifestazione da effettuarsi nel prossimo futuro. Intanto da giorni è scattata la mobilitazione generale dei lavoratori in tutte le sedi italiane della multinazionale.